In Sardegna continuano ad arrivare grandissimi colossi come Huawei, Microsoft. Qual è il ruolo che il CRS4 ha in queste operazioni? Il ruolo del CRS4 è quello in qualche misura di attrattore dal punto di vista scientifico e tecnologico, quindi di coinvolgere piccole o anche grandi aziende in progetti che poi portino alla localizzazione di queste aziende in Sardegna. E questo è quello che è successo per esempio con Huawei per il laboratorio Joint Innovation Center che sta partendo adesso in questi giorni. Ecco, un grande traguardo, una grande soddisfazione anche per un centro di ricerca del calibro del CRS4? Sì, è una grande soddisfazione per il CRS4 e anche per la Sardegna in qualche misura perché diventa un laboratorio, e anzi la Sardegna si propone come laboratorio per sperimentare nuove tecnologie. Il CRS4 lo fa in piccolo al Parco Scientifico e Tecnologico di Pula, con queste collaborazioni lo si fa in tutta la Sardegna. Ecco, il CRS4 che è punta di diamante poi alla Fincine in Sardegna per quanto riguarda la ricerca. Sì, il CRS4 è uno dei centri di ricerca regionali, ce ne sono tre, è il più grande ed si configura come un ponte fra l'università, l'accademia e il mondo industriale. Quindi il mestiere del CRS4 è proprio questo, fare il link fra industria e università e ricerca.